Comincio anch'io con un aneddoto. Sono andata a presentare questo libro, siccome è stato tradotto in portoghese, in francese, ma non in Francia ma in Algeria. Adesso lo stanno traducendo in arabo. Ero in Algeria alla fiera del libro e facevo le vendite con la dedica del libro. A un certo punto si avvicina una ragazza velata e mi chiede, ma signora cosa vuol dire questo titolo? Il prezzo del velo. E allora io dico, perché in alcuni paesi le donne vengono pagate per portare il velo? Lei mi guarda e dice, e pensare che io l'ho sempre portato gratis? Ma nel libro c'è scritto dove ci si può far pagare per mettere il velo? È stata molto spiritosa e molto carina. Per introdurre il tema del titolo del libro, che è appunto il prezzo del velo, che ha un doppio significato. Il primo è quello concreto del fatto che in alcuni paesi, soprattutto in paesi che vivono in una situazione molto difficile, quindi in paesi devastati dalla guerra, arrivano a organizzazioni cosiddette umanitarie, che danno degli aiuti, però vogliono in cambio un certo comportamento dal punto di vista della professione, della manifestazione, della fede. Si tratta di paesi ovviamente musulmani e quindi si tratta di rendere visibile la propria adesione a questa visione dell'Islam, che è una visione diciamo molto ortodossa, fondamentalista dell'Islam, che impone tra l'altro anche il velo, è un certo atteggiamento delle donne e anche degli uomini, ma soprattutto delle donne. E quindi si arriva anche a pagare una specie di salario mensile alle donne, purché si comportino in un certo modo e soprattutto portino il velo. Questo succede, l'ho trovato in molti paesi, in Somalia per esempio, dove si pagavano 100, questo parlo un po' di qualche anno fa, si dava alle donne 100 dollari per portare il velo. Più recentemente in Bosnia, Sarajevo, davano l'equivalente di 200 euro, erano 400 marchi, quindi circa 200 euro. Quindi voi immaginate in una situazione devastata dalla guerra, dove non c'è lavoro, dove ci sono molte vee, dove è chiaro che questo è un incentivo molto forte a portare il velo, anche dove il velo non si era mai portato, appunto come Sarajevo. Sarajevo era una città multiculturale, multietnica, dove c'era una convivenza di tutte le diverse componenti della società, che era un esempio di convivenza. Adesso tutto è cambiato dopo la guerra. E quindi lì, in queste situazioni, ovviamente fa molto presa la cosa che tu paghi uno stipendio mensile per portare il velo, che poi comporta anche altri tipi di aiuto. Ti mandano i figli alla scuola coranica, poi te li mandano all'estero, alle università islamiche, eccetera. Quindi c'è tutta una rete per diffondere questa visione dell'Islam, che spesso non ha niente a che vedere con la realtà locale, anche con la tradizione della pratica della religione nei diversi posti. Questo, per esempio, a Sarajevo, come dicevo, è Europa, quindi è molto vicino a noi, ma questo succede anche, per esempio, alla Somalia. In Somalia, forse avrete presente voi le donne somale, che portano questi, sempre portate questi veli, ma in modo molto sciolto, molto elegante, coordinati col vestito, eccetera. Invece il velo che è stato imposto adesso non è più quello, è un chador, quindi che deve coprire rigorosamente tutti i capelli. E l'ultima volta che sono stata lì, mi ricordo che vedevo queste donne che andavano in giro, che si erano messe questo tipo di velo, perché ormai i sauditi controllavano tutto, perché poi queste ONG sono pagate dai sauditi, sono i sauditi che vogliono diffondere questa visione dell'Islam, che per loro è religione di Stato, e quindi usano i soldi. Ovviamente hanno molti soldi, i soldi del petrolio, e quindi finanziano tutte queste organizzazioni che si presentano come organizzazioni umanitarie. E quindi ce n'erano molte anche in Somalia. Quindi in Somalia imponevano questo velo, ma le donne, che non erano abituate a quel tipo di velo, si manifestavano loro, in qualche modo, ribellione, portando sì questi veli, ma di colori assurdi, tipo verde mela, blu elettrico, fucsia, che è una cosa che non ha molto a che vedere, no, col rigore del velo e soprattutto come lo vogliono imporre i sauditi, che di solito è nero, grigio, marrone, quindi colori molto poco appariscenti. E quindi, ecco, per ritornare un po' al tema del libro, io in questo libro sono partita da questo fatto, che il velo ha anche un prezzo, cioè si paga uno stipendio per il velo. Tra l'altro mi hanno detto recentemente, sono stata a fare un dibattito, dove c'erano diverse donne immigrate, e mi hanno detto che anche in Italia si fa questo. e quindi, insomma, questa pratica è molto più diffusa di quanto si possa immaginare. Però, secondo me, dietro il prezzo del velo ci sono anche tutte le discriminazioni che subiscono le donne nei paesi musulmani, dove, per certi versi, abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi decenni, un arretramento e quindi anche la situazione e la condizione della donna in alcuni paesi è arrettrata rispetto al passato. In alcuni non è avanzata come l'Arabia Saudita, perché in Arabia Saudita le donne non hanno praticamente diritti, non possono guidare la macchina, non possono lavorare, non possono prendere un taxi se non sono accompagnate da un maschio, non possono fare pochissimi lavori, non possono fare i documenti senza l'autorizzazione di un maschio, eccetera. Quindi lì la situazione è proprio la più drammatica. Però anche in altri paesi dove invece le donne avevano conquistato dei diritti perché avevano partecipato, non so, parlo dell'Egitto, dell'Algeria, per esempio, dove le donne avevano partecipato alla lotta contro il colonialismo, alle guerre di liberazione e quindi avevano conquistato anche dei diritti, anche sul piano politico. La prima donna ministro in Egitto del 1956, in Iraq del 1959, in Algeria del 1962. Se voi pensate che in Italia la prima donna ministra è stata Latina Anselmi nel 1976, immaginate che loro erano più avanti di noi in quegli anni, sul piano politico, poi ancora adesso hanno rappresentanti, hanno ministri, eccetera. Però sul piano invece proprio della pratica religiosa c'è stato un arretramento perché in questi paesi è un corso, un processo di re-islamizzazione, come dicevo, quindi di imporre una visione dell'Islam diversa da quella praticata tradizionalmente. Perché? Da dove deriva questo? Chi lo porta avanti e da dove deriva? Questo processo di re-islamizzazione nei paesi musulmani ha avuto inizio per due motivi sostanzialmente in coincidenza di due eventi. Il primo è stata la vittoria di Khomeini in Iran che ha dato l'impressione che si potesse arrivare al potere, che appunto i mullah potessero arrivare al potere, lì sono arrivati al potere e quindi si poteva usare la religione come mezzo per arrivare al potere. Quindi c'è da parte di questi movimenti fondamentalisti l'uso della religione per la conquista del potere. Quindi è una strumentalizzazione, se vogliamo, della religione, perché al fine è prendere il potere e instaurare una teocrazia come in Iran. Anche se l'Iran è sciita e molti di questi movimenti invece sono nel mondo sunnita, che diciamo sono le due correnti dell'islam. E il secondo momento molto importante per la diffusione di questi movimenti estremisti fondamentalisti è stata la guerra in Afghanistan contro l'occupazione sovietica dell'Afghanistan. In quegli anni in cui appunto si combatteva contro l'occupazione sovietica, in Afghanistan e in Pakistan dove si addestravano questi gruppi, sono arrivati anche molti militanti islamici da altri paesi, non solo dal Pakistan o dall'Afghanistan, ma da molti paesi musulmani. E sono andati lì, sono stati addestrati appunto per combattere contro l'occupazione sovietica. Ora, i finanziamenti di questi gruppi venivano dall'Occidente, venivano dagli Stati Uniti in primo luogo, ma anche dai paesi europei. Perché lì si trattava comunque di usare questi movimenti islamici, islamisti, per combattere il comunismo, perché lo scontro forte che c'era in quel momento era utilizzare questi per combattere il comunismo, senza pensare che poi si sarebbe dato forza a questi movimenti. Infatti, quando i sovietici si ritirano dall'Afghanistan e vanno al potere in Afghanistan i vari gruppi, questi che si dicono jihadisti, cioè quelli che portano avanti il jihad, cioè schematicamente si può tradurre con guerra santa, poi si sono combattuti tra di loro, insomma. Però, adesso non dobbiamo parlare solo di Afghanistan. Però tutti gli altri musulmani che erano andati lì a combattere non avevano più motivo di rimanere lì e quindi sono tornati a casa. Ma tornando a casa non è che hanno deposto le armi, hanno pensato di portare avanti questa guerra santa anche nei loro paesi, quindi imponendo una visione dell'islam che fosse quella più ortodossa, più e soprattutto che avesse il fine di poter anche nei loro paesi andare al potere. E quindi, anche con la violenza, perché lì combattevano con le armi, quindi non è che lo facevano così con un'attività di convenzione pacifica. No, sono tornati e quindi sono nati questi gruppi armati in Egitto, in Algeria, eccetera. Forse ricorderete lo scontro sanguinoso che c'è stato in Algeria negli anni 90, non si sa quanti morti ci sono stati, ma si parla di centomila, forse di più. Perché appunto l'obiettivo era quello di imporre una certa visione dell'islam e quindi quelli che non accettavano queste imposizioni, che voleva dire per le donne portare il velo, non andare più al lavoro, vuol dire fare la separazione nelle scuole dei sessi, e tutta una serie di misure che sono in vigore appunto in Irano, hanno applicato i talebani in un modo ancora più trucido in Afghanistan. E questi gruppi hanno cercato appunto di combattere gli infedeli, ma dentro casa loro. Quindi chi non la pensava come loro era considerato l'infedele, un traditore e quindi veniva eliminato. Ora, questo processo, poi vabbè, ci sono varie fasi, momenti di scontro armato, altri momenti, però questo processo continua in diversi paesi, quindi c'è il tentativo di portare avanti questa nuova visione dell'islam. E appunto lo si fa con le armi oppure lo si fa con altri mezzi. E tutti si basano sulla colpevolizzazione della donna, perché per esempio in Egitto, dove appunto le donne, c'era un forte movimento femminista tra l'altro in Egitto dall'inizio del Novecento, e questo movimento femminista aveva portato innanzitutto ad abbandonare il velo e ad acquisire dei diritti. E poi a un certo punto ricomincia l'uso del velo. Con che cose è coinciso questa reintroduzione del velo, la ripresa dell'uso del velo? Con la guerra del 67 contro Israele. L'Egitto perde la guerra dei sei giorni e i religiosi dicono che è colpa delle donne. È una punizione di Allah perché le donne sono troppo libere, hanno troppi diritti. E quindi si impone in questo modo il ritorno del velo. In Algeria si è arrivati a dire che erano le donne colpevoli del terremoto perché non portavano più il velo ed erano delle miscredenti. Quindi, adesso può apparire paradossale questa motivazione, ma lo vediamo nella storia. Sempre c'è un tentativo di colpevolizzare la donna per quello che fa. È sempre la donna colpevole. E la donna è colpevole anche di sedurre il maschio. Non è mai il maschio che si fa sedurre. È la donna che lo seduce. E quindi bisogna evitare che la donna possa sedurre il maschio. E come si può fare? Nascondendo tutte le parti del corpo che possono essere usate per la seduzione. Allora si comincia con i capelli e quindi si coprono i capelli perché sono considerati il massimo strumento di seduzione. Però poi non solo i capelli, bisogna tenere lo sguardo basso, la voce bassa perché anche la voce può essere uno strumento di seduzione. Non bisogna fare il rumore quando si va in giro, i tacchi, eccetera, eccetera. Quindi il velo non è solo un pezzo di stoffa che ti metti in testa. Ha molti significati. Ha significato il fatto che la donna col suo pudore deve garantire l'onore del maschio. E per di più se in qualche modo, anche per colpa non sua, se una donna viene rapita, viene stuprata oppure è lei che trasgredisce, e la donna che viene punita per lavare l'onore del maschio, della famiglia, col delitto d'onore. Ora, noi sappiamo che anche in Italia esisteva una pena minore per il delitto d'onore fino all'82. Solo dall'82 è stato cancellato dal codice penale. Quindi non è che ci scandalizziamo più di tanto in questa cosa. Però il problema è che in questi paesi si sta diffondendo moltissimo il delitto d'onore. E si fanno che in Italia è delitto d'onore, perché l'uccisione di questa ragazza brescia, Ina, è stato un delitto d'onore. Quindi che questa cosa sia così diffusa adesso nei paesi musulmani. In Iraq, per esempio, c'è una diffusione, adesso è il delitto d'onore, che è diventato una cosa veramente impressionante. Ma anche in Italia, anche nei paesi occidentali, anche in Francia è successo. Quindi è purtroppo una realtà anche di casa nostra. E appunto si uccide la donna perché bisogna lavare l'onore della famiglia. Poi, per esempio, se c'è in caso di adulterio per la donna, non c'è necessità di grandi prove per dimostrare che la donna è adultera e la donna in alcuni paesi viene lapidata. Per il maschio è più difficile condannarlo, lapidarlo, perché deve commettere l'adulterio nella propria casa e devono esserci quattro testimoni. E capite che per una donna dimostrare che il marito l'ha tradita dentro casa sua e deve portare quattro testimoni non è così facile. E quindi, insomma, ci sono sempre queste discriminazioni su questa cosa. Alla base c'è sempre appunto l'onore e la sessualità. Bisogna controllare assolutamente la sessualità della donna. La donna non ha il diritto di autodeterminarsi e di fare le proprie scelte, soprattutto appunto dal punto di vista sessuale. che è una cosa questa che riguarda un po' tutte le religioni, soprattutto quelle monoteiste, no? Non bisogna permettere alla donna di fare le proprie scelte autonomamente. Vediamo che anche in Italia le conquiste e i diritti che abbiamo conquistato sono spesso minacciati proprio perché non si vuole permettere questa libera scelta della donna. Quindi non è solo nel mondo musulmano purtroppo una cosa che riguarda tutti. Ora noi alcuni diritti li abbiamo conquistati, però dobbiamo stare attenti perché non è che ci siano garantiti, ci sono garantiti per sempre. Quindi ci vuole molta attenzione per continuare a mantenerli e possibilmente per fare in modo che anche altre donne possano arrivare ad ottenere questi diritti. Io direi a partire soprattutto dall'Italia perché molte di queste donne vivono anche qui, anche da noi. Quindi spesso c'è questo atteggiamento, ed è questo un po' anche l'obiettivo del mio libro, c'è questo atteggiamento per cui si dice ah ma sono le loro abitudini, sono le loro tradizioni, la loro cultura perché noi dobbiamo intervenire, cambiare il loro modo di fare. Non è vero, non è... Tanto questo velo che viene imposto adesso non ha niente a che vedere con la tradizione perché non è il velo tradizionale, non è quello che portavano le loro nonne. Spesso le madri delle ragazze che portano il velo non hanno portato il velo. E poi soprattutto, io ho incontrato diverse donne, soprattutto marocchine che arrivano in Italia senza velo e dopo un mese si mettono il velo. Allora io ho chiesto ma perché se in Marocco non portavate il velo adesso che siete in Italia e che nessuno porta il velo, voi dovete portare il velo. E mi hanno risposto per avere il rispetto della mia comunità. E perché ci sono i capi delle comunità che impongono alle donne il velo. Perché altrimenti dicono, altrimenti voi diventate come le donne italiane vedete, peraltro molte di queste donne escono molto poco di casa perché vengono tenute chiuse in casa per fare solo i lavori di casa non vanno a lavorare, spesso non conoscono l'italiano quindi hanno anche pochi rapporti all'esterno. E quindi dicono, altrimenti anche voi avrete, insomma vorrete la libertà che hanno le donne italiane mostrando quello che si vede alla televisione. Ora effettivamente se la nostra idea di libertà fosse quella che vediamo alla televisione avrei anche io qualche dubbio. Però il problema è che noi dobbiamo far sapere a queste donne che non è quella la libertà che noi vogliamo che anche quella è uno sfruttamento del corpo della donna. Da una parte si copre, dall'altra si scopre. Però, e questo è molto importante, far capire loro appunto che noi ci siamo battuti per i nostri diritti, li abbiamo conquistati e possiamo fare un percorso con loro per arrivare a fare in modo che anche loro possano godere di certi diritti. Senza nessuna imposizione perché abbattersi per i diritti delle donne nei paesi musulmani, ecco io ho messo in evidenza anche questo perché forse le discriminazioni si conoscono abbastanza, magari non tutte perché alcune sono veramente delle cose berrate. Però quello che non si conosce e che si cerca di nascondere per giustificare alcuni comportamenti è che in tutti i paesi dove io sono stata ho trovato delle donne che lottano per i loro diritti e mentre nei paesi diciamo di origine lottano anche per abolire il velo eccetera paradossalmente sono quelle in occidente che invece più ritornano, riportano il velo e quindi non c'è nessuna giustificazione per il velo perché intanto non è una questione religiosa, nel Corano non c'è l'obbligo del velo è un'interpretazione fondamentalista quella che impone il velo quindi diventa una cosa religiosa ma nel senso che è un'interpretazione fondamentalista e appunto in questi paesi ci sono donne che si battono per gli stessi diritti per cui ci siamo battute noi perché sono diritti fondamentali e se sono diritti fondamentali devono valere anche per loro, non solo per noi e questo è un punto molto importante che hanno ribadito le donne alla conferenza di Pechino e in molte occasioni e non è che io o noi vogliamo andare e imporre a queste donne i nostri comportamenti assolutamente no, ma sono loro che rivendicano questi diritti e secondo me dobbiamo fare in modo, io quel poco che posso fare ho cercato almeno di far sapere che esiste questa realtà perché in occidente si ignora, allora si preferisce ignorarli dice no ma quella è la loro abitudine, quella è la loro cultura quella è la loro e quindi si liquida così il problema perché non si vuole far fronte realmente a questa realtà invece non è così, queste donne si battono per i diritti che noi in parte abbiamo ottenuto e in parte ancora lottiamo per ottenere e quindi io penso che ribaltare questa visione sia molto importante perché altrimenti in Italia ci troviamo di fronte a due atteggiamenti allora abbiamo un atteggiamento che ritiene adesso parlo di musulmani ma vale per tutti gli altri popoli che vengono qui da noi, i migranti che vengono si considerano dei diversi, dei selvaggi e quindi certo li utilizziamo perché ci servono la loro mano d'opera ma poi quando ho finito di lavorare dovrebbero diventare tutti invisibili e sparire dalla circolazione dall'altra parte invece c'è chi ribalta il discorso e dice no ma loro sono tutti buoni, anche questa è una discriminazione perché evidentemente sono come noi, c'è il delinquente, c'è la persona per bene quindi non si può dire o sono tutti cattivi o sono tutti buoni evidentemente c'è una distorsione anche in questo caso e soprattutto i loro atteggiamenti diversi che spesso sono in posizione dei maschi sulle donne si dice ma questa è la loro cultura quindi lasciamo stare ecco io partirei invece dai punti che ci uniscono non dalle cose che sono diverse evidentemente tra di noi perché le diversità ci possono arricchire mutualmente però ci sono molti punti in comune siamo uguali, siamo donne che vogliono gli stessi diritti e quindi da questo punto di vista penso che il principio che si debba affermare è quello dell'uguaglianza io ho visto recentemente a Roma c'era una manifestazione e c'erano dei ragazzi neri che portavano un grande striscione e dicevano né razzismo né tolleranza ma uguaglianza perché appunto da una parte c'è razzismo dall'altra c'è la tolleranza ma la tolleranza secondo me viene molto usata come sostituto della convivenza ma secondo me la tolleranza ha un'accentuazione negativa perché se dici che deve esserci tolleranza vuol dire che c'è qualcuno da tollerare invece io penso che non sia così penso che bisogna garantire l'uguaglianza quindi non c'è nessuno da tollerare si tratta piuttosto di convivere di vivere insieme con gli stessi diritti e doveri però solo se ci sono i diritti possiamo chiedere rispetto dei doveri se non ci sono diritti per una parte i cittadini che vivono in Italia poi non si può chiedere rispetto dei doveri io all'inizio anche io avevo un po' questa visione che derivava un po' da una formazione terzo mondista che riteneva che in quei paesi le forme più diverse dal nostro modo di agire fossero quelle più originali quelle più autentiche e quindi da difendere così e poi devo dire che io ho avuto un grande un grande insegnamento un grande rapporto con le donne algerine che ancora continua e sono state loro quelle che mi hanno fatto capire che non era così che io non potevo considerare loro dei diversi perché altrimenti anch'io ero in qualche modo razzista e invece dovevo partire da un piano di parità certo poi rispettando i diversi modi di fare i diversi sentimenti eccetera però partendo da un piano di uguaglianza altrimenti loro mi dicevano altrimenti a noi non interessa un rapporto con te e d'altra parte non capiamo perché dovrebbe interessarti un rapporto con noi che siamo... tra l'altro loro erano delle... ho cominciato a frequentare questi gruppi di donne algerine all'inizio degli anni Ottanta ed erano donne sicuramente sul piano del femminismo anche dal punto di vista teorico molto più preparate di me perché io non ho mai militato in un gruppo femminista certo sono cresciuta in anni in cui era molto forte il movimento femminista e quindi non è che una donna poteva insomma ero molto sensibile a queste rivendicazioni, a quei temi però appunto non ero militante quindi non avevo una base teorica su questo mentre loro erano molto preparate su questo e quindi da questo mio rapporto con loro è nato un diverso atteggiamento nei confronti poi di tutte le persone di tutti i popoli di tutti i gruppi che ho incontrato e devo dire che questo mi ha facilitato molto perché non ha avuto più quei pregiudizi che avevo prima e quindi dappertutto io ho trovato molta facilità di comunicare sicuramente con le donne certo con i maschi se parliamo per esempio dei taleban il rapporto non era così facile ma insomma non era facile neanche per le donne afghane avere rapporti io sono stata una volta mi ricordo durante il periodo dei taleban allora ero riuscita a entrare a seguire dei gruppi di lavoro che faceva il World Food Programme delle Nazioni Unite ed erano tutti progetti per le donne ed era molto importante perché questi progetti erano la prima volta che permettevano alle donne di vedersi di stare insieme quindi per loro questo era il momento più importante erano gruppi che si occupavano di parto diciamo parto naturale poi c'era un gruppo che invece si occupava più di artigianato facevano i tappeti insomma un altro facevano il pane per le donne vedove insomma c'erano tutta una serie di attività e soprattutto queste donne insomma questi progetti avevano imposto ai taleban la partecipazione delle donne quindi queste donne partecipavano a questi corsi e poi mi ricordo che un giorno sono entrati taleban mentre c'era uno di questi corsi dicendo che c'era un uomo dentro e non c'era nessun uomo era un modo per entrare spaventare tutte quanti io mi sono spaventata a morte perché ovviamente ero l'unica straniera presente quindi e poi lì poi se ne sono andati sono andati in un altro centro a vedere cosa succedeva lì era quello del parto quel gruppo poi sono andati in questo posto dove facevano i tappeti e sono arrivati questi taleban che non sono quella polizia quella che controlla diciamo l'implementazione della virtù e l'eliminazione del vizio e sono entrati questi con la frusta dicendo che c'era un uomo anche lì poi ho capito che era un pretesto quella di cercare un uomo e la donna che ha aperto la porta ha detto andatevene via gli unici maschi siete voi e quindi l'hanno presa frustate in un modo pazzesco solo perché aveva osato ribellarsi così quindi ecco lì non era facile avere rapporti con i taleban le donne erano considerate proprio delle bestie quindi però appunto per me invece era molto loro erano molto contenti di far conoscere la loro realtà perché in quegli anni non era facile andare andare in Afghanistan io mi ricordo che ero obbligata a stare in un albergo per stranieri perché anche se ero entrata col World Food Program questo mi garantiva di andare in giro con l'organizzazione dell'ONU durante il giorno che già era molto perché così non avevo un taleban che mi seguiva però la sera dovevo stare nell'albergo allora c'era l'albergo un unico albergo per gli stranieri che stava sulla collina tra le due parti di Kabul e siccome stava sulla collina siccome c'erano sempre scontri tra i talebani invece i taggichi al nord perché i talebani non sono mai riusciti a occupare tutto l'Afghanistan c'era sempre una parte al nord insomma c'erano i taggichi che erano contro i talebani e questo albergo che stava in mezzo aveva tutti i buchi praticamente dalle cannonate che arrivavano da sud o da nord però quello avevano ricavato alcune stanze dove si poteva stare quindi dovevo stare in questo albergo e allora arrivo e dico ma c'è un ristorante qua che prima era un bel albergo si vedeva che era un bel albergo era l'intercontinent e allora mi hanno detto sì sì c'è un albergo io vado in camera subito mi chiamano e mi dicono signora però possiamo servirla in camera ho detto ma non posso scendere ah diceva beh se vuole può scendere allora scendevo in questo in questo ristorante ero l'unica donna e l'unica ospite di questo albergo e quindi mi mettevano un paravento intorno quando mangiavo per non farmi vedere dagli altri perché da tutti i maschi quindi era una cosa assolutamente folle però allora era così devo dire che non era molto molto simpatico stare lì ecco però poi invece è stato molto interessante perché poi le donne siccome c'erano donne che lavoravano clandestinamente per l'ONU e si mischiavano però alle donne che andavano chiedere aiuti e siccome dovevano portare il burka non erano riconoscibili quindi loro approfittavano del fatto dovendo portare il burka gli altri non potevano riconoscere se erano le stesse se erano altre se entravano se uscivano e quindi in questo modo facevano ritorcere questa imposizione contro i taleban perché poi appunto non potevano chiedere loro di scoprirsi questo era fuori insomma questa era una situazione particolarmente difficile però per il resto io devo dire che non ho non ho avuto problemi di contatti con le persone insomma stabilito che appunto si discuteva da un piano di parità non ho mai avuto problemi da nessuna parte ci sono domande? va benissimo noi lo permettiamo io ho dei vantaggi rispetto io sono andato nel teosalismo sono andato qui su una rumpo sotto il testello di canosa e ho una grande immagine non ha di che sopravvivere e viene pagata per portare il velo non è che ha molte scelte questa donna o porta il velo oppure muore di fame non ha da mangiare ai figli eccetera si agisce anche in situazione di necessità sì ma io penso che non voglio capire né l'una né l'altra voglio dire si appunto però c'è anche chi induce a questa cosa che agisce su una situazione particolarmente penosa e che lo fanno sapendo che sono in grado di imporre queste cose perché è in quella situazione quindi insomma io insomma sono stata prima a dire che la situazione in Italia ma non c'è paragone tra la situazione che viviamo noi in Italia della condizione di quelle donne è vero che noi non abbiamo tutti i diritti è vero che sono minacciati quelli che abbiamo è vero che abbiamo ancora molto da fare che da alcuni settori siamo escluse eccetera ma non c'è paragone quando una donna non può uscire di casa non può andare a lavorare non può fare questo non può fare quello non può fare alcune cose voglio dire è vero che anche noi non potevamo fare le giuriste che non potevamo che non avevamo l'eredità però però sono passati molti anni e queste donne si battono perché vogliono la loro autonomia economica lì continuano a non avere avere metà dell'eredità la loro testimonianza vale la metà di quella di un uomo ci sono i matrimoni forzati e c'era anche qui ma non è un buon motivo perché loro restino sempre a quella situazione il fatto che qui abbiamo superato è un buon motivo per pensare che anche loro possono superare la loro realtà e quindi noi dovremmo non dire vabbè ce l'avevamo anche noi allora cosa volete no ce l'avevamo anche noi noi siamo riusciti a superarle e siamo solidali con chi si batte per conquistare i propri diritti perché altrimenti io penso che tra donne soprattutto dovremmo essere un po' solidali adesso come dicono le mie amiche fare un discorso del genere riesci di più a farlo nei paesi musulmani tra le donne che non in occidente perché in occidente ormai c'è questo relativismo per cui apprezzano di più le islamiche femministe come se una islamica potesse essere femminista ora può avere delle idee per le donne così ma essere femminista non può esserlo perché è una contraddizione in termini no eppure ormai le femministe italiane sono solo affascinate da queste donne col velo perché insomma è più esotico io appunto mi rifiuto di accettare una cosa del genere dopodiché non impongo assolutamente niente quello che faccio è perché mi sentivo in dovere di dare voce a queste donne che nessuno ascolta in occidente era un dovere che mi sentivo nei confronti di tutte queste donne che lottano ma che non sono mai tenute in considerazione intanto nei loro paesi ma anche in occidente poi nei loro paesi a volte qualcosa ottengono le barocchine hanno ottenuto un cambiamento del codice della famiglia quindi hanno ottenuto dei diritti in Algeria un po' meno però qualcosa è cambiato nel codice della famiglia quindi ci sono delle cose che cambiano lentamente ecco ma il fatto che noi abbiamo avuto le stesse situazioni per me non è una giustificazione per me deve essere solo un incitamento a pensare che anche loro possono superare naturalmente lo devono fare loro non è che lo possiamo fare noi per loro noi possiamo per esempio cercare di far ottenere maggiori diritti a quelle che vivono nel nostro paese perché tante vivono nel nostro paese e quindi penso che invece nei loro confronti sia possibile individuare delle cose da fare insieme e quindi penso che appunto non insomma sono stufa di sentirmi dire ma noi ma noi ma noi io sì ma noi però anche loro perché devo cioè se viviamo in un mondo globalizzato dove tutto circola dove con internet ormai spaziamo in tutto il mondo però dobbiamo ignorare la realtà di queste donne che vivono dentro casa nostra oppure che vivono un'ora di aereo da qui da Roma o da Milano io penso che questo questo non non si possa fare dopodiché io non ho mai giustificato nessuna guerra perché sono una pacifista e quindi mi guarderei bene e poi ho scritto tantissimo sull'Iraq sull'Afghanistan che vuol dire nessuno può avere dubbi su quello che io penso anche sugli effetti provocati dalla guerra anche nei confronti delle donne perché nelle guerre moderne il 90% delle vittime non sono quelli che combattono sono quelli che non combattono e sono soprattutto donne e bambini perché sono quelli che hanno meno possibilità di far fronte a questi a questi tipi di guerra e in Italia penso ci sia poca reazione a tutto quello che succede delle donne rispetto alle cose che riguardano le donne ma di tutti quanti rispetto a quello che succede stanno succedendo delle cose terribili e non vedo una reazione adeguata a quello che succede anche a cose che si io penso che il fatto più grave sia stato quello della della Elwana Englaro di quello perché penso che quello sia stato il giocare sul corpo di una donna per altri interessi in un modo così bieco e cinico che e allora lì si sono fatte un po' di manifestazioni così indette con sms insomma ma non c'è stata una reazione adeguata a questo rispetto alla pensione io devo dire che se fosse possibile certo in questa situazione non è possibile ma io penso che le donne potrebbero benissimo andare in pensione a 65 anni se durante la loro vita avessero dei periodi dove poter fare perché dove poter fare altre cose per esempio hanno dei periodi nella loro vita io penso che una donna potrebbe lavorare meglio tra i 60 e i 65 anni e magari quando ha 30 anni che ha i bambini piccoli dovrebbe avere invece la possibilità di avere un periodo in cui sta fuori dal lavoro ma è pagata e però non interrompe la carriera non interrompe niente io penso che quei 5 anni si dovrebbe dare in un altro periodo della sua vita in cui ha più bisogno di fare altre cose che invece stare a lavorare invece perché perché si mantiene il fatto che la donna va comunque in pensione prima vuol dire che deve guardare i genitori deve curare i nipotini deve comunque svolgere un ruolo sociale che fa comodo anche allo Stato mantenere le donne in pensione a 60 anni non penso che vada molto a favore dello Stato il fatto sì certo pagherà 5 anni di contributi in più però in questo caso dovrebbero affrontare molto più seriamente problemi che riguardano gli anziani eccetera invece il fatto che ci siano donne che sono in pensione a 60 anni devo dire che io sono andata in prepensionamento per problemi di crisi del giornale e vabbè poi continuo a lavorare quindi non è questo problema però quando io ho pensato che andavo in pensione per me è stato un trauma enorme perché comunque mi sentivo di essere fuori dal mondo era come se per me cambiasse la mia vita anche se poi di fatto non è cambiato niente perché continuo a lavorare come prima non ho mai un momento libero però era un passaggio fondamentale che mi faceva sentire in qualche modo più inutile perché se tu non lavori insomma in fondo noi abbiamo lottato per ottenere un posto di lavoro e quindi non lo so certo se poi in cambio non ha niente è chiaro che è meglio andare in pensione a 60 che a 65 anni però io su questa cosa non ecco se fosse possibile ma in questo paese non è possibile in questo momento fare contrattazioni di questo tipo però preferirei che questi 5 anni fossero non è possibile niente si è possibile con un'essuale qui è così non è possibile che se è possibile